Annunciato durante il media showcase di PlayStation alla Paris Games Week del 2019, con Creed Genie si è subito conquistato una nicchia carica di aspettativa nel cuore della community. A colpire sin dal primo istante la platea videoludica è stato il particolare concept del gioco di Pixel Opus ambientato tra i vicoli bui di un borgo marittimo insediato da una misteriosa minaccia. Un'insidia che il protagonista combatte a colpi d'arte e immaginazione, trasformando le facciate dei palazzi in una tela per la sua straripante creatività. Sotto la superficie del suo stile unico però, il titolo di PlayStation nasconde uno spessore inaspettato che tira in ballo note tematiche potenti e attualissime. E proprio questo l'aspetto che più ci ha colpito quando nel corso di un evento negli studi romani di Sony siamo tornati a sostenere il giovane Ash nella sua crociata contro l'oscurità. La storia di Concrete Genie si apre con un ricordo agrodolce, la visione di una piacevole scena di allegra quotidianità. Una memoria raccontata con una vivace carrellata di disegni tra le pagine dell'album di Ash, il giovane protagonista dell'esclusiva PlayStation. Quasi immediatamente però le sensazioni suscitate da queste immagini lasciano il posto alla cupa realtà del panorama di Danska, ora nel più totale abbandono. Un nodo strettamente legato a quello che è uno portanti di Concrete Genie. Abbandonati a se stessi dai genitori, sempre lontani per loro, i ragazzi del paese sono caduti vittima di un doloroso isolamento, l'origine traumatica del bullismo che pare dominare la micro società adolescenziale di Danska. Costretto a sopportare gli abusi quotidiani dei suoi coetanei, Ash ha però trovato nell'espressione artistica la sua personale via di fuga, uno strumento per sfuggire al ciclo di prepotenza che alimenta la cultura del suppruso. E' per questo che il protagonista non reagisce con violenza alle vessazioni dei ragazzi di Danska, anche quando questi, senza alcuna provocazione, fanno a pezzi il suo album da disegno e lo chiudono dentro una teleferica diretta verso il luogo più spaventoso del borgo. Un faro isolato che si dice essere abitato da una misteriosa entità. Qui Ash trova però il modo di dare vita alle sue creazioni e trasformare la sua fantasia in un'arma, non diretta verso i suoi giovani aguzzini, ma verso la radice stessa del loro comune dolore, raffigurata come un'oscurità densa e palpitante, che si è ormai estesa all'intera cittadina. Questo proposito scandisce una progressione ludo-narrativa che già pare sorprendentemente profonda. Il primo compito di Ash è quello di strappare i diversi quartieri della città al gioco delle tenebre, riaccendendo le luminarie che ricoprono le pareti dei suoi casseggiati. Raggiungere lo scopo, il giocatore dovrà utilizzare il controller di PlayStation 4 come un pennello per coprire le mura del borgo di graffiti dai colori vibranti, composti da un gran numero di elementi differenti, sbloccabili con la progressione e l'esplorazione. Tenendo premuto il grilletto destro, il sistema riproduce in automatico il soggetto scelto dall'utente, lasciandogli la facoltà di controllarne posizionamento, grandezza e orientamento spaziale, sfruttando il sensore di movimento del DualShock 4. Sebbene il titolo non permetta di modellare manualmente ogni dettaglio di un'opera, ai giocatori viene lasciata ampia libertà per quel che riguarda la composizione generale. Oltre a riportare la luce per le strade del villaggio, con lo stesso metodo potrete in specifici punti della città usare il vostro estro per dare vita ai geni. Coloratissimi mostriciattoli che, muovendosi sulle pareti di Denska, vi aiuteranno a scacciare l'oscurità e accedere ad aree precedentemente precluse. In alcuni punti, la malefica corruzione che serpeggia nella città sarà così densa da impedire ai geni di raggiungere l'enigma ambientale da risolvere e in quel caso dovete utilizzare l'abilità speciale del pennello di Ash, capace di dissolvere le tenebre più resistenti con l'ausilio di una vernice speciale. Questo insieme di meccaniche si innesta su una struttura di base che segue piuttosto fedelmente i tratti tipici delle moderne produzioni Action Adventure, permettendovi di esplorare liberamente diverse sezioni cittadine e di arrampicarvi alla bisogna sul fianco dei palazzi, saltando di tetto in tetto per evitare le ronde dei bulli. Come intuibile, la componente stealth non ha certo la complessità dei prodotti di genere, ma sembra accodarsi più che bene alle necessità dei gameplay. Le meccaniche di movimento e scalata mostrano qualche fluttuazione qualitativa sul fronte delle animazioni, ma gli sviluppatori ci hanno assicurato che questo problema sarà risolto in tempo per il lancio. Per il resto, malgrado l'originalità del concept di Pixel Opus, la principale preoccupazione riguarda l'efficacia a lungo termine delle dinamiche di gameplay messe in campo da Concrete Genie, che dopo qualche tempo potrebbero farsi un po' ripetitive. Timori, arginati da qualche precise dichiarazione del team di sviluppo, che ha spiegato come ognuno dei tre atti dell'avventura aggiungerà alla formula di base dinamiche sempre nuove inserite per ampliare la diversità degli enigmi ambientali. Ad un certo punto della storyline, poi, l'impasto ludico si arricchirà con l'aggiunta di una componente action più marcata, quando Ash sarà chiamato ad affrontare direttamente le mostruose incarnazioni dell'oscurità di Danska. Durante la demo abbiamo potuto testare con mano quella che è a tutti gli effetti una boss fight, dopo aver inseguito una creatura mostruosa usando il pennello del protagonista per pattinare lungo un sentiero fatto di vernice luminescente. Il potere in questione ci permetterà di muoverci più rapidamente in giro per le ambientazioni e di scagliare bordate energetiche contro i nostri misteriosi avversari. Il combat system ci è sembrato tanto semplice quanto funzionale, in piena coerenza con le caratteristiche di un prodotto che non punta a proporre ai giocatori una sfida realmente impegnativa, cercando invece un'accessibilità più ampia, tutta votata alla trasmissione di un messaggio importante. L'obiettivo del team di sviluppo è quello di trattare il tema dell'abuso senza accorgiolarsi nella banalità di editare i bulli come cattivi bidimensionali, ma individuando le origini di una catena che non può essere spezzata con la violenza, ma solo con la comprensione. Un'impresa che, stando alle nostre prime impressioni, sembra sia stata portata avanti con sensibilità e coerenza, utilizzando il videogioco come strumento per costruire una maggiore consapevolezza su un problema quanto mai diffuso. Il titolo comprende poi una modalità VR che mette i giocatori dinnanzi ad un ambiente virtuale da riempire con diversi elementi in modo da comporre veri e propri paesaggi tridimensionali. Il tutto utilizzando i move come fossero un pennello ed una tavolozza. Si tratta a tutti gli effetti di un'esperienza totalmente secondaria e senza reali sfide ludiche, pensata per offrire agli utenti qualche decina di minuti di relax creativo. Se allo stato attuale è impossibile sbilanciarsi sul valore complessivo del titolo di Sony, è fuori di dubbio che Concrete Genie adrà su una direzione artistica pregevole e ispirata. La particolare estetica del gioco cerca di portare su schermo lo stile d'animazione tipico delle produzioni in stop motion, cuore di un comparto grafico che trasuda amore e stile. Anche il level design sembra di buona fattura, ricco di elementi verticali e articolato al punto giusto. Difficile dire se in fase di recensione potremo estendere queste considerazioni a ognuna delle cinque macro aree che comporranno il villaggio di Denska, ma quanto abbiamo visto finora ci ha lasciato in corpo sensazioni piuttosto confortanti. Concrete Genie si conferma quindi come uno dei titoli più interessanti in arrivo su PlayStation 4 nell'ultima metà dell'anno. Un potenziale sostenuto da un comparto artistico pregevole e ispirato, che dà voce a un concept carico di sfumature simboliche di grande impatto. Se la trasmissione del messaggio alla base del gioco è senza dubbio la priorità numero uno del team californiano, è chiaro che le 5-6 ore che compongono l'avventura dovranno offrire ai giocatori una buona varietà situazionale, capace di mantenere alto l'interesse fino ai titoli di coda. Difficile a questo punto stabilire se Pixel Opus riuscirà a centrare in pieno l'obiettivo, ma le premesse sono sicuramente positive. Concrete Genie sembra dunque avere tutte le carte in regola per regalare al pubblico un'esperienza profonda e sfaccettata, considerazioni che speriamo di poter confermare in pieno quando il gioco arriverà sugli scaffali il prossimo 9 ottobre. Grazie a tutti.